Buongiorno, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, martedì 30 gennaio 7.07, secondo giorno dei giorni della merla, ricordate questi giorni sono i giorni più freddi dell'anno, così ci viene detto ed effettivamente oggi fa un freschino niente male, giornata di ieri caratterizzata dalla nebbia, quest'oggi sembra che almeno qui nella zona ovest di Milano, zona San Siro, la nebbia si stia alzando ma non penso che ci si può, non penso che riesca fuori il sole e si va in costume in giro, no. In questo momento ci sono meno 2 gradi fuori, in questo momento ci sono meno 2 gradi in questa zona San Siro qua fuori, quindi insomma copritevi, tenetevi al caldo se potete e se dovete uscire armatevi di grande calore, dopodiché è normale ragazzi, siamo a gennaio, fine gennaio, prima di febbraio, ai giorni della merla, meno male che fa freddo in questi giorni, anzi secondo la tradizione è di buon auspicio, perché vuol dire che ci sarà una primavera bella, calda e rigogliosa, quindi meno male e soprattutto insomma visto i cambiamenti climatici che qualcosa ogni tanto rimanga al suo posto non è poi così male. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5, quest'altra cosa qui rimane sempre al suo posto, è il numero di Whatsapp, sempre questo, segnatevelo, registratevelo nell'app di Crystal Radio, c'è anche il pulsantino da schiacciare per ascoltarci, c'è per mandarci il messaggio volendo, quindi è facilissimo, 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5. Buongiorno, iniziamo, iniziamo con la musica, iniziamo con Francesca Michelin. Francesca Michelin, solite chiacchiere, ed ora si va, si inizia, si parte, e arrivano già i primi Whatsapp al 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5. Buongiorno Cristallini, buongiorno Fabio, nebbia, freddo e inquinamento alle stelle. Buongiorno anche a te Alberto, viva la vita, come direbbero, viva la vita, come direbbero qualcuno. Ma sì, allora, freddo sicuramente, nebbia, se tutto va bene si sta alzando pian pianino, eh. So che ci scrive da zona Navigli, quindi sicuramente lì è un po' più difficile che si alzi, però di qua si sta già alzando, quindi magari anche di lì si alzerà, e inquinamento alle stelle. Ebbene sì, anzi, attenzione, allora, notizia di Milano Today che sembra la fine del mondo, poi vai leggere l'articolo, è un po' meglio di quello che vi vengono detti. Da oggi blocco del traffico, chi non può circolare a Milano e gli altri divieti. Allora, quasi tutti voi che ci ascoltate, ve lo dico per esperienza, potete circolare, già ve lo dico. Nel senso che, chi non può circolare? Allora, non posso circolare, ovviamente tutti quelli che rientrano nella categoria di area B. Quindi la metà dei divieti erano già vietati. Poi è prevista la limitazione, la circolazione, tutti i giorni, nella fascia dalle 7.30 a 19.30, 19.30 per tutti i veicoli Euro 0 ed Euro 1 di qualsiasi alimentazione, e per i veicoli a gasolio, cioè a diesel, 2, 3 e 4, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4. Anche se avete il famoso move-in, quella macchinetta che vi poteva fare entrare, fare X numero di ingressi in area B. Ecco, quella roba lì in questi giorni non vale, ma soprattutto non vale neanche per i veicoli Euro 4 diesel commerciali, anche se hanno il FAP e anche per i veicoli Euro 0 ed Euro 1 ha GPL e metano, ok? Oltretutto queste limitazioni andranno avanti, se vanno avanti, anche sabato e domenica. Quindi a differenza dell'area B che sabato e domenica non funziona, tutti i giorni, ok? Dopodiché credo che da qui a domenica verranno tolte, perché quando 3-4 giorni poi le levano. Comunque non andiamo avanti, non abbiamo una palla di cristallo. Divieto oltretutto, oltre a non poter circolare queste macchine, divieto di combustione e di accensione di fuochi all'aperto, niente falò, niente barbecue. Dopodiché ricordiamo che infatti i falò di Sant'Antonio a Milano sono stati vietati per l'inquinamento e infatti vediamo come la situazione è migliorata grazie a questo divieto. Complimenti come sempre alla Giunta per delle idee veramente malsane, comunque anzi balzane, come dire. Perché poi? Milano ha vietato i falò di Sant'Antonio, no? Settimana scorsa, Settimo milanese, Cisambuscun, Corsi, i paesi intorno invece lo facevano tranquillamente e quindi l'inquinamento si sa rimane fermo lì, no? Se tu lo fai Settimo milanese, il falò, tutte le polveri sottili rimangono lì chiuse, ferme, non superano la tangenziale, sono polveri sottili svizzere, proprio stanno attenti a non... Vabbè, infatti comunque... Oltretutto c'è anche il divieto di tenere temperature superiori ai 19 gradi nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Quindi se oggi ci sono i vigili col termostato e il termometro che vanno in giro, dire quanta temperatura hai, ovviamente. Ma lo capite che sono completamente inutili questi divieti? Non hanno senso, facciamole a monte le cose, andiamo a vedere i grafici. Tutti gli anni, tutti, tutti gli anni, da metà ottobre fino a metà aprile quasi, l'inquinamento va alle stelle. Come mai? Chissà perché? Boh, non sappiamo benissimo perché. Comunque, vabbè. Luce verde? Che traffico c'è oggi nonostante il blocco? Elodie, Elodie, ok, respira. Respirate anche voi, ma non troppo a pieni polmoni oggi perché sappiamo che l'inquinamento è a livelli stratosferici, quindi attenzione. Mi sto guardando in televisione in questo momento, sono un po' giallo. Mi sono accorto in questo momento. Regia, facciamo qualcosa. Mi sembra un po'... Mi sono abbronzato con le luci dello studio, può essere. Va bene, comunque. Scusate il fuoricampo. Comunque, allora, torniamo a noi. Notizia dalla Repubblica. Nella Repubblica Milano. Un milanese su tre va in bicicletta almeno una volta alla settimana, ma quasi uno su due è stato vittima di un furto. Ecco perché la mia bicicletta ha regalatemi ormai due anni fa per il mio compleanno, è ancora ferma lì e non l'ho praticamente mai usata e chiedo scusa a tutti coloro che mi hanno fatto il regalo, ma sappiate che a breve la userò, ho finalmente trovato il modo di usarla. Perché ho buro di furti, effettivamente. Studio di Out of the Box. 14.000 ciclisti circolano ogni giorno in città. Il 50% di loro ha una pista a 5 minuti da casa, quindi pista ciclabile vicina a casa, per il 50% di questi 14.000. La richiesta di parcheggi sicuri contro i furti è superiore a quella di nuovi percorsi protetti. Pensate, il 70% di quelli che hanno stato intervistati dice che hanno bisogno di parcheggi sicuri, quindi non è tanto il problema l'andare in giro quanto l'essere vittime di furto. Ma un milanese su tre, una volta alla settimana, utilizza la bicicletta per spostarsi. Questo è il dato invece più grosso, perché se sono 14.000 coloro che circolano ogni giorno in città con la bicicletta, ben un milanese su tre, una volta alla settimana, utilizza la bicicletta per spostarsi all'interno della città. Niente male. 33% uno su tre. Sì, invece nell'Interland la percentuale di chi pedale scende appunto da questo 30% al 27%, quindi fuori si usa un po' meno e le distanze ci stanno. Ma ripeto, non è tanto questa la notizia, quanto la notizia è che comunque il 30% dei milanesi utilizza la bicicletta almeno una volta a settimana per muoversi. Direi che non è per niente, per niente male. Gli altri dati che vengono fuori, quali sono gli altri dati che vengono fuori da questo studio? Il 45% dei piccoli viaggi sotto i 5 chilometri viene fatto in automobile, in auto privata. Quindi il 45% dei milanesi continua a utilizzare l'auto privata settimanalmente. Il 44% fa uso anche però dei mezzi pubblici, quindi niente male. Tutto questo perché appunto Out of the Box ha fatto questo report, questa ricerca, e domani a Palazzo Marino sarà presentata appunto da Andrea Franchini, che è il titolare di Out of the Box. Questa ricerca, i milanesi e la bicicletta, utilizzi, ostacoli e opportunità di crescita. I risultati di un'indagine quantitativa nell'area di Milano, nell'area di Milano e Monza. Interessante, vedremo un po' che cosa ne verrà fuori anche dagli altri dati che fanno capire che l'utilizzo è sempre più diffuso. Il campione delle persone intervistate andava tra i 18 e i 64 anni, quindi tanti quelli che hanno potuto raccontare com'è l'esperienza della loro vita in bicicletta. Significa che in media pedalano 27-37 mila ciclisti al giorno nella zona appunto di Milano e Monza-Brianza. Un bella ricerca e capiamo anche che forse questa diatriba, no, piste ciclabili sì, piste ciclabili no, in realtà arriva dopo un'altra diatriba. Non facciamoci fregare la bicicletta quando siamo in giro. Dopodiché se ricordiamo che c'era un film di non so quanti anni fa che si chiamava L'Ato di Biciclette, forse perché insomma è un... Com'era? È il mestiere più antico del mondo? Forse è L'Ato di Bicicletta. David Bowie, Let's Dance, 7.32 minuti, bentornati. Seconda parte di trasmissione, grazie ancora ad Alberto che ci manda un altro Whatsapp al 3317853555 dove ci conferma che, confermo, la nebbia si sta alzando anche sui navigli. La nebbia agli irticolli, piovigginando sale. Eh, la sai Viola questa? La conosci questa canzone? Più o meno, più o meno. Conosci più la poesia o la canzone? La poesia. Dice che Viola classe 1000, no sì 1000, no 2000, no 2003, classe 2003. Pensate, vivono in mezzo a noi, hanno anche la patente, pensate. Noi anziani facciamo fatica a comprendere questa cosa. Comunque Viola classe 2003 conosce la poesia e non la canzone. Ma pensatevi, invece no, noi siamo cresciuti, la mia generazione, anzi un po' arrabbiati perché in realtà io l'ho studiata a scuola, questa San Martino, l'ho studiata a scuola e poi tipo l'anno dopo, due anni dopo, tre anni dopo, neanche, è uscita la canzone di Fiorello. Però quelli dopo di noi l'hanno studiata sulla canzone di Fiorello. Infatti è l'unica poesia che sappiamo a memoria tutta, dal inizio alla fine. Il problema è che la devi cantare e quindi, insomma, non so se la maestra ti dava buono se tu gliela cantavi, tipo Fiorello, con la giacca colorata, le spalline e il codino. Perché ci dimentichiamo sempre questa cosa, Fiorello ha avuto il codino, era il codino per noi. No, beh, il codino per noi era Roberto Baggio. Adesso, questo momento nostalgia a Marcord, un po' così, anzi, a proposito di Marcord, ricordiamo Sandra Milo che ieri ci ha lasciato perché è musa di... Cioè, lo ricordo con Sandra Milo con Marcord perché è musa appunto di Fellini. Quindi, andiamo avanti invece. Tema San Siro, concerti San Siro. Adesso ne parleremo un po', poi lo riprenderemo anche dopo. Cosa c'è sul Corriere della Sera? Il Corriere della Sera ha fatto un bel lavoro perché due articoli, uno dietro l'altro. Concerti a San Siro, i residenti verso l'incontro con Sala. Limitare eventi e capienza, più rispetto per il quartiere. Questa è la richiesta di alcuni comitati di quartiere della zona San Siro. Ma l'articolo appena sotto o appena sopra, dipende da che parte leggete la pagina, concerti a San Siro. Rispettare le esigenze di tutti. Milano ospita eventi unici in Italia. Chi dice questa frase la dice Carlo Parodi, presidente da maggio di Asso Musica, cioè l'associazione degli organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo. Quindi due articoli dove si leggono le motivazioni dell'una e dell'altra parte verso una richiesta, in realtà da entrambe le parti, di regolamentare i concerti a San Siro, di trovare il modo migliore. Ovviamente Asso Musica spinge per poter fare più concerti, per cercare di rendere al massimo i 34 concerti previsti, ad esempio a San Siro, che però vedranno anche delle sovrapposizioni. E quindi i comitati di residenti chiedono che venga sistemata questa cosa, perché pensate, ci saranno delle sovrapposizioni. Il limite delle 78.500 persone nei tre siti non sarà rispettato, secondo le previsioni dei comitati di quartiere. Questi 34 concerti quindi non sarebbero in regola con le nuove normative deliberate dal Consiglio Comunale. C'è da dire questo, lo ripeto per l'ennesima volta, e lo dico da persone anche tirate in causa, in quanto noi abbiamo studi e anche abitazioni qui nella zona intorno allo stadio. Dovevamo pensarci prima, cioè non puoi fare una... Cioè questa regola qui, che il sacro sante va bene, la dovi applicare dal 2025, cioè dare un anno, due anni di modo a che si potesse ragionare con chi produce i concerti. Con la pesce di Martino, sesso e architettura. Io ora parliamo invece di una persona, un milanese, di cui sono indegnamente collega, nel senso che non sono degno di partecipare a questa tavola o questo microfono, vorrebbe dire, in questo caso. Perché parlo di Alessandro Becchi, scrittore oggi, giornalista da sempre, ex direttore di Radio Popolare e conduttore anche di una trasmissione famosa appunto su quella radio, bene, torna a Robecchi con il suo Monterossi. Ebbene sì, torna un altro capitolo che si chiama Pesci Piccoli, edito da Sellerio, della saga di Monterossi. Lo scrittore racconta il suo nuovo romanzo, Pesci Piccoli, in libertà dopo una pausa di due anni. Stavolta il mio detective va in tilt. Ebbene sì, detective, detective Monterossi, e giustamente il giornalista del Corriere della Sera da cui sto traendo la notizia, dice anche inorriderebbe, inorriderebbe giusto sì, a sentirsi chiamare così Monterossi, perché sappiamo che insomma non vuole essere chiamato detective. Ma quello è quello che Robecchi ha costruito intorno a Monterossi, è un personaggio, una storia e delle storie. Siamo al decimo capitolo, decima avventura appunto per il Monterossi, per Carlo Monterossi, anzi per il Carlo Monterossi, perché è milanesissimo, racconta la città di Milano come nessun altro, vive la città di Milano come nessun altro. Ma soprattutto questi due anni di assenza sono stati un po' mitigati dalla presenza di Monterossi su Prime Video, perché lo sapete, o se non lo sapete andate a cercarla perché è davvero molto bella, se amate Milano dovete guardarvela, la serie Monterossi, due stagioni, molto probabilmente ne arriva anche una terza, mi sa che qua siamo di fronte a tante floride stagioni che arriveranno del Monterossi, ambientazioni pazzesche. Tra parentesi ho avuto la fortuna l'anno scorso, durante una delle giornate case aperte, sapete che c'erano queste giornate fatte da varie associazioni, tra cui è che il FAI dove si aprono, non è solo palazzi aperti, è proprio case aperte, si possono andare a vedere delle case particolari, di design o importanti a Milano, bene, sono andato a vedere in visita la casa di Monterossi. Eh sì, in Piazza Carbonari c'è questa casa, che è la casa di Monterossi. Nel film è pazzesca, è riconoscibilissima, ha dei panorami che tu pensi, va che roba, va che roba la CGI, la grafica computerizzata. No ragazzi, è così. Da quella casa si vede un panorama pazzesco, un 360 carpiato su tutta la città, che neanche è l'osservatorio astronomico. Cioè, davvero, una cosa stupenda. Comunque, Robecchi torna con il suo nuovo Monterossi, torna appunto con questa decima avventura, che si chiama Pesci Piccoli, in libreria. Questa sera, questa sera, al Teatro Franco Parenti viene presentata ai lettori con un reading a due voci, da una parte proprio Robecchi, dall'altra Luca Nucera, che in tv impersonifica Oscar Falcone, che è socio degli agenti Agatina Cirelli e Monterossi. Quindi, insomma, se questa sera volete vivere in una Milano Noire, una Milano gialla, eccola raccontata dalla voce di Robecchi e di Nucera, proprio al Franco Parenti, per la presentazione della decima avventura di Monterossi, Pesci Piccoli, edita da Sellerio. Se invece state a casa, beh, andate su Prime e guardatevi la serie. Monterossi, mi raccomando, scritto così, tutto attaccato, Monterossi. E questa era Gaia con Tokyo, anche qui, se volete fateci un giro a Tokyo, che bello. Non mi piace, non vi consiglio così un po' anche a caso su cosa farvi vedere in giro. Allora, questa sera, vi raccomando, se volete andare a sentire Robecchi al Franco Parenti, potete ascoltarlo, che presenta una lettura della decima avventura di Monterossi, Pesci Piccoli. Se invece volete vederlo in tv, c'è Prime Video. Se invece non sapete cosa fare, beh, è la serata giusta per preparare la vostra squadra del Fanta Sanremo. Ebbene sì, perché ho sette giorni, anzi ormai sei, all'inizio, alla chiusura della creazione per le squadre sul Fanta Sanremo, e una settimana all'inizio del festival, perché martedì prossimo inizia il festival di Sanremo. Lo racconteremo ovviamente noi di Cristal Radio, lo racconteremo in diretta, spesso l'interia, anche da Sanremo. ci stiamo organizzando, io sarò a Sanremo, vi do questa notizia, quindi ve lo racconterò anche da là, non so bene quando, non so bene come ancora, ma in qualche maniera ve lo racconterò. Sta di fatto che potete fare la squadra del Fanta Sanremo. Come farla? Andate sul Fanta Sanremo, sul sito internet, potete scaricarvi anche l'app, quest'anno c'è anche l'app, vi create la vostra squadra, e la iscrivete alla Lega Crystal Radio con la K2L. ci sono tante altre squadre all'interno della Lega, e che potete tranquillamente appunto aggiungervi, e poi vincere assolutamente niente. Ma è questo il bello, nel senso che, no, beh, poi in realtà ci sono anche delle leghe di altri, che sono sponsorizzate, e tutto, quindi potete vincere cose. In questo momento ci sono una ventina di squadre all'interno della nostra Lega, quindi potete aumentare il numero anche voi, aggiungendo la vostra squadra. Devo fare i complimenti a chi si è iscritto, perché sono davvero delle interessanti squadre, con dei titoli molto, molto interessanti. Ad esempio, c'è una che insomma, ci dice chi vince Sanremo, perché c'è una squadra che si chiama Vince Lodi, così, va bene. Poi c'è, beh, devo fare i complimenti alla squadra che si chiama Alessandra Nervoso, devo dire un bel titolo, un bel nome, bel nome. Poi c'è un team d'Argen, ovviamente, proprio tranquillo. Il signore del Fanta Sanremo, abbiamo anche, quindi gente in Roma che se la prende, e poi, e poi, i poveri e poveri, invece dei ricchi e poveri, sono i poveri e poveri. Poi c'è spicchi di mandarino, insomma, c'è un po' di tutto, e di più, una squadra su tutte ha raccolto la mia attenzione, perché ha un nome di speranza, si chiama Jalis, perché insomma sappiamo che i Jalis non vanno a Sanremo, e allora li portiamo con il nome della propria squadra del Fanta Sanremo. Oh, fatelo, è qui, è gratis, iscrivetevi, potete tranquillamente appunto iscrivervi al Fanta Sanremo, e vedere chi vince la Lega di Crystal Radio, mi raccomando, e quindi andate, scaricate la app, o fatelo sul sito, create la vostra squadra, e poi vi iscrivete alla Lega che si chiama Crystal Radio, è facilissima da riconoscere, c'è il logo di Crystal Radio, e si chiama Crystal Radio, o più facile di così, non so che fare, comunque, avete capito? Quindi, Fanta Sanremo, squadra, iscrivetevi alla Lega di Crystal Radio, e noi andiamo avanti con la musica, perché qui su Crystal Radio si è avanti con la musica, e sappiamo che insomma, non sappiamo di chi sia la colpa di questa musica, ma sicuramente non è colpa di Zucchero, ma neanche nostra, è Zucchero, per colpa di chi? Zucchero, per colpa di chi? Se non avete ballato adesso, io non so più cosa fare, per farvi tiraggiù dal letto, per farvi uscire in città, sì, fa freddo fuori, molto, c'è un po' di nebbia, un po' meno di ieri, sarà una giornata fredda? Sì, ma dovete uscire, lo sapete, questa è la dura legge di Milano, ogni mattina, un milanese si sveglia, e sa che dovrà uscire nel traffico della sua città, ecco, così, è così, dovete farlo, dovete farlo, andate in università, andate a lavorare, andate a lavorare, no, però dovete farlo, dovete uscire in città, piccola bagara all'interno della Repubblica, cioè scusate, Sopacini, assessore dei Municipio 1, sconfessato dal PD, l'assessore del Municipio aveva partecipato alla manifestazione non autorizzata di sabato pro Palestina, e il capogruppo invece in consiglio comunale, Filippo Barberis, capogruppo del PD, appunto in consiglio comunale, ha detto un errore, grave, grave errore politico, così appunto le parole verso Lorenzo Pacini, 28 anni, assessore del Municipio 1, che ha risposto, con una risposta fantastica, però devo dire la verità, mi riconosco nelle parole di Mattarella, parafrasando insomma la polemica che è uscita su invece il carabiniere che ha detto che non capiva, cioè che non si riconosceva nelle parole di Mattarella. Sta di fatto che c'è un piccolo caso all'interno del PD milanese, perché appunto il Partito Democratico milanese aveva accettato e anzi appoggiato la scelta del questore di Milano di non divietare la manifestazione di sabato pro Palestina, ma l'assessore Pacini ci ha dato lo stesso, e quindi adesso vedremo che cosa farà il PD, insomma all'interno non sta volando aria buona, nel senso che ci sono parole dure dall'una verso l'altra parte. 883, quanti erano non lo sono, 883 sei un mito, questo era il Crystal History delle 8, appunto, 808 e 3, per quello capito, lo mettiamo proprio solo in quel momento, grazie all'ufficio programmazione, scusate il mio delirio. Se ve lo siete persi nei giorni scorsi, voglio ritornare su questa notizia, c'è un nuovo pezzo da museo nel Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, parlo del mitico Tram Carrelli 1927, ebbene sì, l'avete sicuramente intravisto, visto, seguito, pensate, ATM Milano ha fatto una diretta Instagram dell'ingresso del Tram al, anzi prima dell'uscita del Tram dal deposito e poi quando l'hanno inaugurato al Museo della Scienza e della Tecnica. Il nostro amico Andrea Cherchi è andato lì, ha fatto una foto come non ci fosse un domani, tantissimi i profili social che hanno seguito l'evento, perché? Perché questo Tram, il Tram Carrelli, il Tram a Carrelli, cioè sono i Tram quelli piccoli, tipo l'1 per intenderci, o tipo l'atmosfera, quelli lì, uno di questi esemplari è andato al Museo della Scienza e della Tecnica, nel padiglione del trasporto, di fianco al Gamba de Legne, altro pezzo mitico di Milano, ma la cosa interessante è che lo potete vedere in un museo, quindi andare lì, salirci, andare a toccare la manetta, perché sapete come venivano chiamati così volgarmente, ma anche in realtà giocosamente, gli autisti di Tram a Milano si chiamavano il Manetta, perché usano la manetta per far andare avanti il Tram e quindi vengono chiamati il Manetta. Se volete andare al museo, c'è il Museo della Scienza e Tecnica, trovate il Tram, ma la cosa più interessante è che alcuni di questi esemplari stanno ancora circolando oggi, come vi dicevo alcuni sulla linea 1, altri ad esempio come il Tram Atmosfera, sono stati proprio dei Tram Carrelli 1927, rimessi a posto, rimodernati, ci sono tantissimi quindi ancora in linea, in circolazione sulla nostra città, e l'altra cosa interessante è che anche all'estero potete ritrovare questi Tram, perché sono stati donati dalla città di Milano in alcune città del mondo, la più famosa in assoluto, è una linea che tutti quanti fotografano ogni volta che si va in quella città, anche se non si è di Milano e anche se non si è italiani perché davvero è molto molto iconica, San Francisco, sulla Main Street, San Francisco, passa la linea, non mi ricordo che numero sia, ma con questi Tram dei Milanesi, leggermente modificati, sono stati rialzati, sono stati un po' allungati, in realtà ne attaccano due insieme, fanno una cosa un po' strana, però sono quelli, sono quelli e dentro la cosa divertente è che dentro ci sono ancora i cartelli tipo obliterare il biglietto, vietato a sputtare dai finestrini, vietato a parlare al conducente, tutto in italiano, con anche alcuni loghi del comune di Milano ben in vista e anche i loghi di ATM, quindi avete varie alternative per rivivere l'esperienza del Tram Carrelli 27, andare al Museo della Scienza Tecnica, che ormai è lì e potete vedervelo, farvi un giro sul Tram Atmosfera, sui Tram speciali, quelle per le feste di compleanno di ATM, andate sul sito ATM per sapere come fare, se riuscite fatevi un giro anche sulla linea 1 del Tram, perché ogni tanto passa proprio quello lì, perché ci sono anche altri Tram Carrelli del 1930, del 1935, ma quelli di 27 sono i più vecchi, oppure, oh, io ho un biglietto per San Francisco, adesso magari fuori stagione non costa neanche tanto, già che ci siete lì, vedete un po' una bella città, vi fate una bella esperienza e quindi, chissà, potete fare un bel giro e vedervi anche il Tram, bene, Milano on the world, questa è la verità, ovunque andiate c'è sempre un po' di Milano che vi aspetta. Andiamo avanti con la musica, Ozuna con David Guetta, Vocation. Ozuna con David Guetta, Vocation. Ringrazio i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando molto, molto attenti e sicuramente anche appassionati di Tram, perché al 3317853555 ci hanno scritto dicendo però, attenzione, Carrelli, 1928 per la precisione, e allora io sono andato a vedere perché, insomma, l'articolo che ho letto su Milano Today diceva invece 1927, allora poco cambia, ma in realtà è un interessante, perché hanno commesso questo errore i colleghi di Milano Today? Sono stati inattenti, sono stati così, hanno scritto un numero a caso? No, in realtà sono andato a scoprire sul sito del Museo della Scienza della Tecnica, spiega bene la storia, perché? Allora, il modello che in questo momento è esposto al Museo della Scienza della Tecnica è effettivamente del 1928, è il matricola 1563, questo qui è il numero di matricola del Tram, chiamato appunto Tram Carrelli, oppure Milano 1928, o anche semplicemente Milano 28, o ancora più semplicemente solo 28. Ma la sua origine la dubbiamo al 1927 invece, perché il primo prototipo con matricola 1500 viene prodotto invece nel 1927, quindi il progetto è dell'anno precedente, ma poi diventa di uso comune chiamato il 28, proprio perché nel 28 escono, diciamo, su tutte le linee milanesi di quell'epoca questi Tram, Tram che originariamente avevano solo due porte, una centrale e una frontale, e in coda c'era un salottino per i fumatori, pensate che roba. Viene poi aggiunta una terza porta negli anni 30, intorno al 35, proprio sul retro, per far sì che si possa accedere facilmente al salottino fumatori sul retro del Tram. Poi, in realtà, tutto questo ha avuto miliardi di evoluzioni, perché allora uno gli hanno aggiunto una porta, all'altro gli hanno chiuso una porta, poi hanno presi modificati e fatto i Tram speciali, che vediamo adesso in giro, gli hanno presi modificati e mandati dall'altra parte del mondo. C'è un Tram, ad esempio, specialissimo, che si vede spesso in giro per la città, si chiama la sabbiera, è quella che mette giù la sabbia. Ad esempio, quel Tram lì, ho scoperto essere la costruzione di due Tram messi insieme, hanno segato due Tram, li hanno messi insieme, e hanno aggiunto il serbatoio della sabbia, perché serve, non sapevo questa cosa, che serve mettere della sabbia sulle rotaie del Tram, così che il grip, l'attrito tra le rotaie di Deferro e le ruote Deferro, con la sabbia sia maggiore e migliore anche, quindi quando si frena, quando si accelera, non c'è lo slittamento, così si dice tecnicamente, tecnicamente slittamento, slittamento. Comunque, 1928, ok? Abbiamo capito dove stava l'errore, dove stava la diatriba tra i due anni, quindi 1928, no, 1928, questo è l'anno in cui è uscito il Tram Carrelli, appunto, che in questo momento è esposto al Museo della Scienza Tecnica di Milano, andate a vederlo, dal 26 di gennaio è stato esposto lì, e quindi, insomma, potete farvi un giro, costa veramente poco, tra parentesi, andare al Museo della Scienza Tecnica, sembra una roba tipo 10 euro, una cosa del genere, quindi era davvero una roba che, secondo me, bisogna fare almeno una volta all'anno, vi dico la verità, almeno una volta all'anno bisogna andare, anche perché vi concentrate su un padiglione, piuttosto che un altro, c'è tanta, tanta scienza, ovviamente, Museo della Scienza Tecnica, c'è tanta tecnica, ovviamente, ma vi dico la verità, c'è sempre molta, molta a Milano, anche, e Leonardo, gli studi sulla città, e il tram, e il gamba del legno, insomma, non è a caso che consiglio la visione di un posto come quello del Museo della Scienza Tecnica di Via Olona, qua, a Milano, di Via San Vittore, in realtà, perché, vabbè, Via San Vittore è l'ingresso ufficiale, Via San Vittore 21, l'uscita è su Via Olona, va bene? Andiamo avanti con la musica, Massimo Pericolo, le cose cambiano! Massimo Pericolo, le cose cambiano, e sapete che Massimo Pericolo, ne abbiamo parlato spesso e volentieri qua, era un papabile concerto della nostra producer Viola, poi sappiamo che, insomma, ha litigato con tutti i suoi amici la nostra Viola, quindi non è potuta andare al concerto, non la vogliono più far uscire, ma è da sola, tutto il giorno in casa, e non può più uscire, anzi, se volete diventare amici di Viola, 331-78-535-555, potete essere una poverina, è simpatica, sì, ha un brutto carattere, però è simpatica, dai, in senso, mi passa la serata con lei, una birra, due tiri a pallavolo ed è contenta, quindi, insomma, se volete, 331-78-535-555, invece, ieri sera, c'era il sold out, e tutti i tuoi amici Viola sono andati, e non ti hanno invitato, al concerto di Coez e Facuintale, o Facuintale-Coez, dipende da che parte lo leggete, sì, hanno fatto un concerto insieme, perché hanno fatto un album insieme, se non sapete chi sono, beh, è semplicemente perché avete la mia età, no, Coez in realtà lo, ma Coez è così giovane come Facuintale, o nessuno di due è così giovane in realtà, fammi capire Viola, sono abbastanza giovani entrambi comunque, sì, no, Coez, forse è iniziato veramente giovane, però Coez, già, forse lo conoscevi di più, Facuintale, magari, non sapete chi è, non è Peppe Quintale, quello della premiata ditta, è Coez ha 40 anni, infatti, è una quantità mia età praticamente, infatti, Facuintale non è quello della premiata ditta, no, è un altro, canta, e Facuintale è da 34 anni, quindi insomma, non sono così giovani, ma molto, molto, molto amati dai più giovani, che ieri sera hanno strariempito il forum, credo giusto sia, il forum da Sago hanno fatto il concerto, quindi sold out del forum, concerto pazzesco, e allora chi siamo noi, per non essere informati su che cosa hanno cantato, Facuintale e Coez, beh, la canzone che stanno andando a mettere, l'hanno cantata in chiusura di concerto, l'hanno rifatta due volte, pensa a te, e ne avevano di robe da cantare, perché hanno due carriere insieme, un po' di canzone ce li hanno, pensa, Coez fa Quintale, Alta Marea. Cesare Cremonini, chimica, 8 e 33 minuti, benvenuto, buongiorno, a Walter Cherubini, consulta periferia Milano, buongiorno Walter, buongiorno a tutti, ben ritrovati, allora Walter, oggi potremmo partire da una parola, parola del giorno, partecipazione, e non stiamo parlando di Giorgio Gaber, la sua canzone, ma in questo caso no, Ma perché no, anche libertà e partecipazione, diceva, quindi mi sembra che sia un aggancio interessante, anche perché nella sostanza Gaber è un po' la persona del momento, anche per la ricorrenza, quindi ci sono tutta una serie di cose interessanti. Gennaio è il mese di Gaber, diciamo. Gennaio è il mese di Gaber, mettiamo dal punto di vista musicale, sicuramente questa sia una cosa interessante, ma se andiamo un attimino invece a entrare nel merito del tema della partecipazione, quindi sempre focalizzando il tema delle periferie, abbiamo fatto questo decalogo dalle periferie per ripartire e quindi al punto 2, direi, sì, al punto 2 del decalogo dalle periferie per ripartire, ricordiamo una cosa, c'era il periodo del Covid che non è che se ne sia andato tra le altre cose, ma in questo momento qui nulla sarà come prima. Allora cambiamo le cose, perché se ritorniamo come eravamo prima, per qualcuno è auspicabile, visto anche la situazione che c'è stata in questi anni di difficoltà significativa, anche per alcune categorie di lavoratori, eccetera, però andiamo un attimino più nel dettaglio di questo aspetto e quindi cambiamo, bene, cambiamo come? E il tema della partecipazione sicuramente è un tema importante, perché vuol dire che si cercano di mettere a fattor comune tutte le energie presenti nella città. Questo è un dato, perché questa città, se riprendiamo un concetto espresso dall'architetto Piano, la periferia è la città che sarà o non sarà. E la periferia, la città che sarà o non sarà, molto spesso, spesso, capita talvolta che qualcuno dica nelle periferie sono quelle che generano, sono quelle dove c'è creatività, però, dopodiché, non c'è una struttura che favorisca anche questo tipo di espressione. E quindi quello che accade in periferia emerge un po' incidentalmente, ma non è frutto anche di un percorso di facilitazione. Quindi nel decalogo dalle periferie per ripartire noi abbiamo messo questo, partecipazione e progettazione partecipata. La partecipazione non può essere relegata alle emergenze del momento, deve diventare un processo organizzativo, strutturato e continuativo nella logica della progettazione partecipata. Milano ha immense energie e professionalità, tra l'altro, quelle riconosciute ogni anno con gli ambrogini, da valorizzare in maniera organizzata e non saltuaria. Quindi abbiamo ripetuto anche il termine della organizzazione, perché altrimenti si lascia un po' al caso e il caso normalmente che cos'è che accade? Che chi ce la fa, ce la fa e chi non ce la fa continuano a farcela. In più c'è questo tema degli ambrogini, cioè di ricordarci che esistono quelle eccellenze. Se le premiamo, se diciamo che sono delle eccellenze, a quel punto ricordiamocelo anche quando magari si va su quel tema e possiamo pensare di darci delle linee guida, di avere degli spunti da questa realtà che magari invece a volte vengono dimenticati. C'è il premio e poi vi è dimenticato. Vorrei associare anche... Un po' come vincere Sanremo, chi vince Sanremo poi in realtà non vende i dischi, li vendono gli altri. Un po' così, no? Sulle dinamiche discografiche non voglio entrare sempre che ci siano ancora i dischi e quanto cosa. Rimaniamo al nostro vinile per certi aspetti. Ma volevo anche associare un'altra cosa, perché il prossimo 3 febbraio, per cui festa di San Biagio, però c'è anche una scadenza ormai annuale da decenni che è il premio alla virtù civica Panettone d'Oro e quindi alle 10 al teatro... Sabato, giusto? Sabato 3 febbraio al teatro Parenti alle ore 10 organizzato dal coordinamento comitati... Promosso dal coordinamento comitati milanesi anche organizzato e poi anche da tutta un'altra serie di organizzazioni. in questo caso appunto c'è un'altra sorta di chiamiamolo ambrogino chiamiamolo panettoncino. Quindi noi abbiamo ogni anno la segnalazione di circa 70 qualcosa del genere riguarda anche la città metropolitana da qualche anno a questa parte appunto il Panettone d'Oro che vengono segnalate e dopodiché rimangono disperse. Allora al di là di come vengono poi individuate ma sicuramente il grosso di queste realtà associative persone che vengono individuate hanno sicuramente spendono delle energie per la città. Allora queste energie per la città è opportuno che vengano anche canalizzate con molta libertà però come amministrazione comunale anche e anche come società cerchiamo un po' di metterle a fattor comune. Penny Gu Lenny Kravitz I believe in love again continuiamo a parlare di periferie stiamo parlando di partecipazione beh la partecipazione va fatta nel senso che possono partecipare i cittadini possono partecipare anche le istituzioni e ad esempio anche i municipi Walter come viene trattato il tema della partecipazione dai municipi e come vengono partecipati anche i municipi forse anche quello è un tema di partecipazione questo qui è proprio un tema di struttura organizzativa della città nel senso che se noi anzi noi continuiamo ad avere una organizzazione delle nostre amministrazioni che si rifanno a situazioni diciamo dei tempi che furono e obiettivamente non sono più adeguate soprattutto nelle grandi città a gestire tutta una serie di fenomeni complessi che noi diciamo sempre bisogna affrontare in maniera interdisciplinare facendo sistema e quant'altro questa interdisciplinarietà e questo sistema è proprio sul territorio che viene meno perché siccome noi abbiamo una struttura organizzativa dell'amministrazione che va per canne d'organo e cioè non ha relazioni tra direzione direzione funzione funzione soprattutto nel territorio chi opera sul territorio si trova magari alla macchina del caffè però come uffici non è mai previsto che svolgano un'attivazione sinergica e complessiva se non in situazioni diciamo così proprio non di emergenza ma poi di conclamata è disastro e allora Bosco della droga di Rogoredo oppure adesso c'è stato a San Siro per cui dal prefetto alle associazioni e quant'altro per cui si rincorre sempre il problema e il problema poi come è evidente è sempre molto più veloce di chi lo rincorre e quindi si aggrava rispetto alla partecipazione appunto nel decalogo abbiamo anche posto come primo punto il tema dell'organizzazione del decentramento e dei municipi abbiamo detto la settimana scorsa che c'era stato un rogo a Grattosoglio per un cantiere che andava non andava è stato anche segnalato domani ci sarà un sopralluogo delle apposite commissioni consigliari del Consiglio Comunale di Milano appunto case sicurezza e coesione sociale c'è il sopralluogo e quindi sono stati invitati il capo della polizia locale di Milano e poi anche i funzionari dell'Aler ed è stato anche invitato il municipio 5 ok cioè la ramificazione amministrativa che dovrebbe presiedere quell'area lì perché stiamo parlando Grattosoglio municipio 5 e quindi è il terminale dell'amministrazione quello più vicino al territorio è invitato per cui come gli invitati siamo alle nozze ci sono i testimoni poi naturalmente coloro che si sposano eccetera sacerdote e quant'altro dopodiché ci sono gli invitati che si spera che vengano poi magari qualcuno non può venire e va bene ma comunque il matrimonio lo facciamo lo stesso perché il cuore del tema c'è lì così e il municipio su una cosa che accade sul suo territorio è invitato adesso non vogliamo prendiamo questo argomento tirandolo un po' per i capelli naturalmente non vorrei che anche i presidenti delle commissioni consigliari ne avessero male ma non è questo quel problema perché loro stanno facendo il loro mestiere grazie perché lo fanno però dal punto di vista organizzativo è il municipio che è lì è lui che conosce bene il territorio tutti quelli che ci sono e quindi è il punto le dinamiche le dinamiche del territorio le dinamiche sociali e quindi è lui il punto di riferimento di tutto di governo di governo di quel territorio lì e quindi è questo l'attore principale che poi può anche seguire se risulta come invitato anche perché dal punto di vista del regolamento dei municipi i municipi hanno competenza sull'edilizia privata ma nulla sull'edilizia pubblica ecco questo qui è il tema quindi fondamentalmente non è nemmeno un problema di diamo dei poteri ai municipi no i municipi dovrebbero avere anzi devono avere perché altrimenti continueremo sempre a rimanere così frammentati devono avere la capacità di visione governo del territorio per quello anche perché sul territorio ci sono decine di funzioni e servizi comunali che svolgono la loro attività e c'è bisogno di quella famosa interdisciplinarità di intervento sinergia chi è che assicura su un territorio questo tipo di modalità operativa bisognerebbe inventarlo ma siccome ci sono i municipi i municipi che ereditano tra l'altro quella che doveva essere la funzione delle amministrazioni degli antichi comuni che sono stati eliminati 100 anni fa si è tentato 50 anni fa appunto con l'introduzione del decentramento i consigli di zona di restituire ai territori la capacità di governo ma è rimasto lettera morta per questi 50 anni speriamo che non rimanga ancora per altri 50 anni perché poi i problemi si acquiscono e poi andare si spendono tra l'altro un fracco di soldi per fare iniziative tamponamenti di cose bandi per iniziative poi come è stato detto ci sono degli interventi poi le persone che vengono perché rispondono i bandi fanno degli interventi dopo un anno non ci sono più cioè c'è bisogno di continuità di presidio del territorio non di estemporaneità strutturare gli interventi in maniera permanente appunto con soggetti che presidiano sul posto sul posto il territorio bene andiamo avanti con la musica e poi ci troviamo qui per i saluti finali e le ultime considerazioni analisa con 10 analisa 10 sono 10 minuti che ci siperano dalle 9 ma siamo ancora qui con Walter Cherubini siamo arrivati alla conclusione ai saluti finali ma prima di andare via un appuntamento fra qualche settimana ma meglio dirlo prima sì è l'appuntamento del 21 febbraio alle ore 15 nella sala conferenza di Palazzo Reale in piazza del Duomo 14 che cosa faremo? faremo una sorta di convegno riconoscimento di che cosa? parlavamo prima del centenario degli antichi comuni non è che nel 2023 è finito tutto è stato proprio l'occasione per un rilancio e rispetto anche a una conoscenza territoriale è interessante riconoscere anche per l'identità tutti questi aspetti la milanesità ecco vogliamo riconoscere le presenze sociali assistenziali sportive associative di varia natura imprenditoriali che da 100 anni presidiano il territorio diciamo così degli antichi comuni e ci sono e della periferia e ce ne sono parecchie ne abbiamo individuate circa un centinaio la cooperazione abitativa anche quindi attraverso la loro presenza vogliamo un po' leggere questo centenario e quindi guardarlo anche dal punto di vista dell'organizzazione della nostra città come era com'è e come anche potrebbe essere perché sicuramente quegli aspetti burocratici sono da sottolineare e anche modificare 21 febbraio giusto? 21 febbraio Palazzo Reale Palazzo Reale esattamente la periferia che va in centro ma perché deve raccontarla tutta la città e quindi giustamente non diciamo che non si bisogna andare anzi c'è il centro importante in queste situazioni poi insomma tutto funzionale tutto funzionale infatti allora Walter grazie mille davvero noi ci sentiamo presto sempre qui col Focus Periferie e nel frattempo invece voi che ci state ascoltando beh arriva la nostra sigla perché sono le 8.53 e sapete a quest'ora parte la nostra sigla e ve l'ho detto sono le 8.54 in questo istante di oggi martedì 30 gennaio e volge al termine la puntata odierna di Good Morning Milano sempre qui su Crystal Radio sempre qui in vostra compagnia puntata odierna ricca come al solito sapete che il nostro menu ha tutte le portate compreso il dolce il caffè la mazza caffè tutto quanto perché dalle 7 alle 9 vi facciamo compagnia vi portiamo nella conoscenza della città nel racconto tramite i giornali le notizie magari quelle che non vi siete accorti che c'erano quelle che rimangono nelle pieghe del giornale beh noi ve le leggiamo qui in diretta su Crystal Radio a Good Morning Milano e dopo di noi chi c'è ma c'è lui Ambrogio Curti con SentiQuesta chissà cosa ci fa sentire oggi beh in teoria deve saperlo perché ieri all'interno di Good Morning Milano avete sentito l'anticipazione il teaser il trailer settimanale appunto di Ambrogio con SentiQuesta tutti i giorni dopo di noi dopo il radiogiornale qui su Crystal Radio noi si tornano domani lo sapete queste sono le coordinate Crystal Radio 96.2 FM iOS Android applicazione sito web e tutto il resto ascoltate le voci le voci qui su Crystal Radio la mattina è quella mia di Fabio Ranfi che vi dice grazie della vostra compagnia grazie ancora di aver passato con noi un'intera mattinata noi ci riscoltiamo ci risentiamo domani mattina alle 7 qui su Crystal Radio ciao ciao